naik la figlia di ornella moody all'attacco contro chiara ferragni fagli ridare il profilo alla bambina quasi vergognati pensati libera e una ragazzina si alza si pensa libera e scrive un commento sotto un post la signora chiara ferragni si scatena il putiferio la ragazzina riceve così tanti commenti negativi che deve la mamma deve chiudere i commenti su instagram dopodiché la sua pagina instagram tra l'altro una pagina molto bella scompare e la ragazzina non esiste più ecco il nostro pensarti libera in italia ragazzi wow bel esempio bel messaggio per le ragazzine pensatevi tutte libere ma non scrivete commenti sotto i post di certi influencer perché sennò ma noi abbiamo una grande fiducia nella nostra influencer che sostiene le donne chiara ferragni adesso sta solo a te come hai fatto per amedeus per la giulietta che mi sembra un po più importante una ragazzina quindi c'è rimasta anche male tu da mamma da donna da grande influencer sostenitrice delle donne puoi sbloccare tutto basta che fai un appello ai tuoi miliardi di follower e aiutaci a riaprire l'instagram di giulietta chiara ferragni mi raccomando adesso è il momento di dimostrare che anche tu sostieni le donne hanno chiuso il profilo a quella bambina vi sembra giusto date i vostri commenti qui sotto ma in realtà sentiti libera